Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con la meteo di TV6. L'alta pressione continua a essere protagonista indiscossa all'interno del Mediterraneo, soprattutto al centro e al sud dove il gran caldo persisterà quanto meno sia nei primi giorni di luglio. Al nord leggermente più vivace il clima con dei temporali sparsi, qualche fenomeno intenso. Per quanto riguarda l'Abruzzo, nel corso di questo giovedì 30 giugno ci aspettiamo una nuova giornata estremamente stabile con cieli sereni quasi ovunque, innocui e densamenti in appennino. Possibilità molto rara di fenomeni sui monti durante le ore pomeridiane. Le temperature tornano a salire a valori tra i 30 e i 33 gradi, nelle massime minime tra 16 e i 23 gradi. I venti saranno deboli a regime di brezza, ma rigeneramente calmi o a tratti poco mossi. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.